Noi abbiamo costruito un modello basato sulla correnza e la vicinanza ai nostri clienti e quindi in questa filiale vedete tutto in un senso il futuro della banca con la multicanalità ma con il cuore del servizio, la relazione con il gestore e la valore aggiunto con la sua competenza e perciò abbiamo deciso di investire circa 300 milioni per sviluppare questo progetto che darà sempre più valore aggiunto ai nostri clienti.